Quando mi hanno convocato per girare un film, per dire poco, mi sono incantato dell'idea, perché era un periodo per me piatto, solita vita, una vita monocona. Allora, arrivato a questo punto mi sentivo rinascere, vengo presentato dai miei compagni di lavoro, il resto del cast, gente semplice, allegra, quell'allegria che mi mancava da tanto tempo. Mi viene dato il copione, comincio a leggerlo, man mano che vado avanti percepisco che io dovevo trasmettere al pubblico le tradizioni della nostra terra, le cose che io amo di più, perché riescono ancora a rendermi felice. Arrivato a questo punto, c'è felicità, contentezza, non so come definirla. Emozioni si accavallano uno sull'altro. Io spero che le emozioni che provo io, le prove anche il nostro pubblico, perché noi altri lavoriamo per loro, in particolare il pubblico oltreoceano, lavorando per loro, li facciamo sentire vicini alla loro perna. Per concludere, consiglio a tutti di guardare questo film, perché è tutto in Calabrese, come e ai vecchi tempi.